Mafia, appalti ed estorsioni, i carabinieri hanno arrestato 33 persone tra bagherie e lascari. Almaviva salvi i posti di lavoro, nella notte a Roma è stato raggiunto l'accordo tra aziende e sindacati. La polizia di Catania ha fermato 16 presunti scafissi nell'ambito delle indagini sullo sbarco del 28 maggio. Buonasera e bentrovati all'edizione di Media News di martedì 31 maggio. Mafia, appalti ed estorsioni, i carabinieri hanno arrestato 33 persone tra bagheria e lascari. 33 ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite nei confronti di altrettanti soggetti accusati a vario titolo di mafia, estorsioni, furto, rapina, illecita detenzione di armi, intestazione fittizia di beni e trasferimento fraudolento di valori, reati e gravati dall'agevolazione dell'attività del sodalizio mafioso. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Leonardo Guece hanno fornito un accurato quadro di assoluta attualità, consentendo di definire gli interessi di Cosa Nostra nella parte orientale della provincia di Palermo, a partire dal territorio di Bagheria, sino ad arrivare ai confini delle province di Catania e Messina e di ricostruire in maniera chiara e dettagliata i nuovi organigrammi dei due storici mandamenti mafiosi di Trabbia e San Mauro Castelverde, con l'individuazione dei reggenti e degli affiliati. In particolare è stato documentato il ruolo di vertice ricoperto per il mandamento di Trabbia da Diego Rinella, affiancato da Michele Modica, capo famiglia di Trabbia, nella gestione operativa degli affari illeciti e nei rapporti con le dipendenze mafiose di Cerda, Caccamo e Termini Merese. Per il mandamento di San Mauro Castelverde da Francesco Bonomo, collaborato nella conduzione dei traffici delittuosi da altri componenti dell'associazione, incaricati tra l'altro del materiale trasporto di pizzini e messaggi verbali, arreggenti e sodali delle famiglie mafiose di San Mauro Castelverde, Polizi, Generosa e Lascari. L'operazione ha dunque dimostrato la progressiva riorganizzazione territoriale dell'associazione mafiosa in una vasta area della provincia, evidenziando come, coerentemente con il generale andamento di Cosa Nostra, i richiamati mandamenti abbiano dovuto rimodularsi a seguito delle operazioni di polizia condotte negli ultimi anni che ne hanno decimato le fila, soprattutto tra gli elementi di vertice. E adesso ascoltiamo le interviste rilasciate a margine della conferenza stampa di oggi. L'operazione che il frutto di una manovra investigativa articolata e prolungata nel tempo che ha interessato i mandamenti di Trabbia e San Mauro Castelverde ha comprovato, ha dimostrato una progressiva riarticolazione delle famiglie nel territorio in relazione proprio agli esiti delle ultime operazioni di polizia che hanno sostanzialmente decimato le fila, si poneva la necessità di individuare nuovi reggenti e si è deciso di puntare a vecchi boss, soggetti che potessero per la loro caratura dare una coerenza alla struttura criminale, quindi assicurando anche il rispetto ferreo delle regole e delle tradizioni all'interno dell'associazione stessa. Gli affiliati ricorrevano ad ogni stratagemma per eludere le attività delle forze di polizia, prima fra tutti la possibilità di pianificare incontri in aperta campagna, in contesti operativi chiaramente difficilmente penetrabili da parte delle forze di polizia. In un caso specifico è stato documentato un summit tra i due mandamenti svoltosi nel porto di Cefalù, quindi in un momento anche di particolare affollamento e è stato anche riscontrato che una serie di incontri operativi sono stati svolti all'interno dell'ospedale di Termini Menezi. Cambiamo argomento, vertenza Alma Viva, salvi i posti di lavoro. Nella notte a Roma è stato raggiunto l'accordo tra aziende e sindacati con la mediazione del governo. Accordo fatto sull'avvertenza Alma Viva al Ministero dello Sviluppo Economico. Lo ha annunciato in un tweet la viceministro Teresa Bellanova che scrive, lo avevo detto dalla prima trattativa che non avremmo lasciato sole 3.000 persone, salvi i posti di lavoro. Accordo siglato. La trattativa conclusa nella notte tra aziende e sindacati con la mediazione del governo per l'avvertenza sull'azienda di call center ha portato dunque al ritiro di circa 3.000 licenziamenti. Anche il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha espresso via Twitter la sua soddisfazione. Stanotte chiusa con un accordo la procedura di licenziamento per Alma Viva. Adesso bisogna continuare a lavorare uniti per dare un futuro migliore ai call center. Stop quindi ai licenziamenti. Ammortizzatori sociali per 18 mesi con la riduzione progressiva della solidarietà. Verifica mensile della situazione produttiva ed occupazionale dell'azienda in sede istituzionale. Sono questi i punti principali dell'accordo secondo quanto riportato in una nota di Alma Viva Contat che sottolinea l'impegno decisivo del governo per l'intesa. Una sfida condivisa con governo e sindacati per riportare lavoro e produttività nelle sedi di Roma, Napoli e Palermo. Riscossione Sicilia accoglie una proposta del Movimento 5 Stelle. Il 6 giugno nascerà in Sicilia Riparti Impresa che compenserà debiti e crediti delle aziende siciliane con la pubblica amministrazione. Riscossione Sicilia accoglie una proposta del Movimento 5 Stelle. Il 6 giugno prossimo nascerà in Sicilia Riparti Impresa che compenserà grazie a nove sportelli dedicati debiti e crediti delle aziende siciliane con la pubblica amministrazione. 46.000 aziende, 50.000 professionisti, 12 miliardi in gioco. Questi numeri dell'iniziativa messa in piedi da Riscossione Sicilia sulla base di una proposta del Movimento 5 Stelle sempre ignorata dal governo. Un emendamento in tal senso, targato Movimento 5 Stelle, è infatti stato bocciato dall'Arsi in occasione delle ultime finanziarie regionali. Stamattina la presentazione a Palazzo dei Normanni, alla presenza tra gli altri dell'amministratore unico di Riscossione Sicilia, Antonio Fiumefreddo. Polemico in una nota il presidente Crocetta che scrive Fiumefreddo ha fatto bene a partecipare al convegno del Movimento 5 Stelle perché ritengo che le figure istituzionali nominate dal governo debbano confrontarsi con tutti. Ci sarei andato anch'io se mi avessero invitato, così come avrei partecipato ad un convegno di altre forze politiche. Le istituzioni, aggiunge il presidente, appartengono a tutti e non devono essere occupate dai politici che governano. Sono garante reale del pluralismo e del confronto. Mi farò dare gli atti del convegno perché ci sono spunti interessanti che sicuramente porteremo avanti. Non si governa con l'arroganza. L'arroganza in questi tre anni c'è stata da parte di chi è stato chiuso a qualsiasi confronto. In questi giorni incontrerò Fiumefreddo, conclude Crocetta, sia per parlare del bilancio della società, sia della mancata trasparenza di riscossione nei precedenti governi. La polizia di Catania ha fermato 16 presunti scafisti nell'ambito delle indagini sullo sbarco del 28 maggio di 884 migranti. Vediamo. Sono 668 i migranti tratti in salvo nelle ultime ore nel canale di Sicilia, al termine di quattro distinte operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di tre gommoni e di un barcone. In particolare la nave Dattilo ha salvato 322 persone a bordo di un barcone. Sui tre gommoni sono state impegnate nei soccorsi un'unità navale della Marina Militare, una nave tedesca, una nave militare irlandese e due unità navali di organizzazioni non governative. Intanto la polizia di Catania ha individuato e fermato 16 presunti scafisti nell'ambito delle indagini sullo sbarco del 28 maggio di 884 migranti soccorsi nel canale di Sicilia e arrivati nel porto del capologo Etneo a bordo del rimorchiatore italiano Vosta Lassa. Il provvedimento che ipotizza il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stato emesso dalla procura distrettuale su indagini della squadra mobile della Questura e del nucleo di polizia tributaria della sezione operativa navale delle Fiamme Gialle di Catania. Cantiere navale, oggi sit in unitario sotto Palazzo delle Aquile dei laboratori di Fincantieri e dell'Indotto. I lavoratori di Fincantieri e dell'Indotto hanno manifestato oggi sotto Palazzo delle Aquile per chiedere al sindaco e alla giunta di prendere posizione sullo stato di grave sofferenza del cantiere navale di Palermo senza commesse e con i lavoratori in cassa integrazione. Ancora peggio stanno i lavoratori dell'Indotto, circa un migliaio, fermi da quando è iniziata la crisi di commesse. Sono anche senza ammortizzatori sociali. Presenti alla protesta i lavoratori delle tre cooperative storiche, i Picchettini, Spavesane e Portisti. I sindacati chiedono al comune di sollecitare Fincantieri perché assicuri la distribuzione di nuove commesse in città e alla regione di accelerare i tempi per la realizzazione del bacino da 80.000 tonnellate. Al sindaco Orlando i sindacati chiedono anche un intervento sulla regione e sul governo nazionale per sbloccare i finanziamenti che occorrono per definire l'altro bacino di carenaggio da 150.000 tonnellate di cui sono in corsi lavori di bonifica e di consolidamento. Nella visita del 29 settembre scorso al cantiere navale, il ministro del Rio e il sottosegretario Faraone sottolineano, avevano annunciato che dopo queste opere il bacino sarebbe stato completato. Anche su questo fronte è stato interrotto qualsiasi programma. Villa Santa Teresa, lettere di licenziamento per i dipendenti delle aziende edili del gruppo Aiello, Sittina, Bagheria. Protesta dei lavoratori dell'Atigroup presso la clinica Santa Teresa di Bagheria. Ieri sono arrivate da parte delle tre aziende edili dell'ex gruppo Aiello, Edilmar, Italtecna e Atigroup le lettere di messa in mobilità dei 120 lavoratori, la maggior parte dei quali si trova in cassa integrazione. Ora parte la procedura di 75 giorni per i licenziamenti. Non accettiamo questa procedura e ci opporremo con forza ai licenziamenti. Vanno ricercate soluzioni alternative per garantire la continuità produttiva dell'azienda, dichiara il segretario Fillea Cigelle Palermo, Francesco Piastra. Ci sono pesanti responsabilità da parte dell'Agenzia dei beni confiscati, che evidentemente ha ricevuto il mandato da parte del Ministero di Grazie e Giustizia al licenziare. Chiediamo una convocazione urgente. Attendiamo che l'Agenzia e l'amministratore giudiziario si pronunciano sul progetto di cooperativa messa in atto dai dipendenti e facciano la proposta di affitto. I lavoratori hanno manifestato l'interesse con la Costituzione della cooperativa ad acquisire il ramo di azienda e a rilevare l'attività. Registriamo ad oggi il silenzio assoluto da parte di entrambi e nessuna risposta è stata data al sindacato sul fatto che una parte dei dipendenti, quelli non in cassa integrazione, abbiano maturato quote di retribuzione ancora mai pagate. Emergenza rifiuti in Sicilia, sì alla proroga di sei mesi per lo smaltimento in discarica. Il presidente Crocetta si prepara dunque a firmare la nuova ordinanza sull'immondizia. Un'ordinanza complessiva che proroga sia Iato sia il conferimento dei rifiuti nelle discariche siciliane fino a novembre. Ad annunciarlo ai sindacati CGL, CISL, Will e Fiadel è stato l'assessore regionale all'energia e rifiuti Vania Contrafatto, che ha incontrato le parti sociali proprio nel giorno in cui scade l'ordinanza sulla proroga dei Iato e quelle sulle discariche. E' nel giorno dello sciopero nazionale dei lavoratori dell'igiene ambientale che ha visto in Sicilia un'adesione con percentuali che hanno sfiorato l'80%. L'assessore ha assicurato che i tecnici del Dipartimento stanno lavorando a quest'ordinanza complessiva che sarà sottoposta alla firma del presidente Crocetta e a quella del ministro dell'Ambiente. Il ministero ha posto chiari e precisi vincoli ai quali la regione siciliana dovrà attenersi nonostante il caos generale del sistema dei rifiuti. Nonostante l'ordinanza rappresenti una buona notizia, i sindacati però continuano a dirsi preoccupati considerato che il sistema è in proroga con ordinanze speciali sin da ottobre del 2013 e in tre anni il governo regionale non è stato in grado di darsi una strategia efficace su impiantissiche e sulla gestione dei Iato. Il provvedimento prevede anche un'accelerazione sulla differenziata. In base agli accordi presi con il ministero dell'Ambiente il presidente Crocetta dovrà almeno diffidare i comuni ad implementare la raccolta differenziata entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto ed eventualmente commissariarli. L'obiettivo è far aumentare la differenziata nei prossimi sei mesi almeno del 3% per ogni trimestre. A Villa Abate oltre mille mini calciatori hanno partecipato al nono torneo ali per volare. Vediamo. Diciamo che ci possiamo ritenere molto soddisfatti di questa non edizione che sta per concludersi. Si concluderà tutta al centro sportivo Villa Abate dove ci saranno le autorità dell'amministrazione comunale a presenziare tutta la prima azione di tutte le categorie. Ci sono le categorie 2005, le due categorie 2006, 2007, 2008 e 2009. Quest'anno ci dobbiamo tenere molto soddisfatti di questa non edizione che ha visto una grandissima partecipazione di società nel comprensorio di Villa Abate e Palermo. Ha venuto anche l'Agrgas, ha venuto anche il Trapani, il Palermo Calcio. Diciamo che il torneo va crescendo sempre di anno in anno. Infatti ci prepariamo quanto prima all'evento della decimedizione che abbiamo in mente tante belle iniziative. Quindi diciamo anche questo, essendo tante società stanno partecipando tanti bambini. Secondo me stanno partecipando al torneo in tutte le categorie almeno 1.500 bambini. È un grande evento. La cosa più importante è che il torneo è visto come un aiuto ai bambini bisognosi, ai bambini della floresta equatoriale, dove noi come Villa Abate e Calcio diamo una mano d'aiuto tramite il portavoce che è il nostro caro amico Rino Martinez che è il presidente dell'associazione Alie per volare. Diciamo che già abbiamo in cantiere di far cambiare la qualifica al torneo. Anziché fare un torneo provinciale, non far diventare un torneo nazionale. Quindi abbiamo in programma per il prossimo anno, se l'amministrazione ci darà un piccolo aiuto, di coinvolgere società professionistiche, tipo come l'Empoli, tipo l'Atalanta, perché no, Juventus, Milan, Inter o c'è Palermo giustamente. Quindi noi la decimedizione vogliamo fare cose molto molto belle. Casomai fare la finale della categoria 11 all'astodio comunale Renzo Barbera. L'associazione italiana Sindrome Fibromialgica, sezione di Bagheria, organizzato per oggi pomeriggio un momento d'incontro tra il professor Piercarlo Sarsi Puttini, direttore della reumatologia dell'ospedale Sacco di Milano, esperto di fibromialgia, e i medici del distretto sanitario di Bagheria, sul delicato tema appunto della fibromialgia, patologia poco conosciuta ma fortemente in espansione. Con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi do appuntamento alle prossime edizioni.